O Gesù, questo è l'ultimo lunedì che veniamo qui ai tuoi piedi, nel ciclo di quest'anno che si è aperto a settembre. Siamo qui, Signore Gesù. Adesso faremo due mesi di vacanza, di ferie e con la tua grazia ti chiediamo di ritornare qui per riprendere il ciclo delle nostre adorazioni. Gesù, questa sera vogliamo ringraziarti di averci mantenuto in vita, di averci dato il dono della tua presenza e il dono di tante e tante grazie in tutti questi lunedì dell'anno. Siamo qui, Signore Gesù. Tu non sei mancato mai. Noi qualche volta abbiamo mancato all'appuntamento, ma tu non hai mancato mai. Tu hai desiderato ardentemente di incontrarti con noi, perché vuoi beneficarci. Siamo tuoi e abbiamo bisogno di te. Paolo, Signore, fa un signore che anche noi sentiamo vivo questo bisogno di incontrarci con te sempre, di non mancare mai l'appuntamento e questa sera ti ringraziamo che ci hai dato la grazia di venire tante e tante volte qui il lunedì. Signore, l'ultimo lunedì, vogliamo che tu ci congedi quelle grazie che tante volte ti abbiamo chiesto e che ancora non abbiamo avuto la fortuna di avere. Ti chiediamo di gradire l'offerta della nostra fede e del nostro amore. Ti chiediamo di ascoltare ancora una volta la nostra prece. Signore Gesù, siamo qui davanti a te questa sera e mentre ti ringraziamo e ti benediciamo ti imporiamo ancora una volta. Grazie per noi. Grazie per la nostra famiglia. Grazie per tutti quelli per i quali noi preghiamo. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché siamo scampati dalla mano di Erode che ci teneva in prigione come Pietro. Ti ringraziamo, Signore, perché ci hai scampati da tanti pericoli dell'anima e del corpo. Ti ringraziamo, Signore, che siamo qui davanti a te questa sera. Ti ringraziamo, Signore, di tutto. Signore Gesù, noi ci proscriamo davanti a te. Vogliamo raccogliere questo nostro ringraziamento in un atto di adorazione profonda. Tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro Salvatore, di ieri, di oggi e di sempre. Vogliamo credere a te e ci affidiamo a te. Signore Gesù, tu sei il nostro Dio, l'unico Dio, non ci atta di fuori di te. E proclamiamo la tua sovranità su tutto il mondo, su tutte le potenze, su tutti gli uomini. Tu solo sei il Signore, tu solo sei il Signore. Davanti a te si piega ogni ginocchio, in cielo e in terra e in ogni luogo. E te il Padre ha costituito, Salvatore di tutta l'umanità. Chi vuole essere salvo, devi invocare il tuo nome. Alleluia. Tutti gli uomini di Israele si rivossero con grande perfetto. Siamo noi, dalla testa fino ai piedi, non c'è una parte ilvesa. Tutto piaga, tutto di vidura. Tutto piaga, non unta con olio, né fasciate. Signore Gesù, questo è il tuo corpo. Io parlo delle levelure dello spirito, delle piaghe della mente, delle ferite del cuore. Ecco il tuo corpo, Signore Gesù. Non c'è una parte ilvese. Viene a guarire il tuo corpo. Gesù, buon samaritano, piegati ancora una volta davanti a noi e ungici con l'olio a stergi le nostre ferite col vino. Fascici col tuo amore. Gesù, abbiamo bisogno di te. Signore, noi siamo come quel viandante a metà strada. Abbiamo bisogno di te. Guarisci il tuo corpo, Signore. Tutte le parti del tuo corpo, chi per un verso e chi per un altro. Siamo tutti piegati, feriti. Abbiamo bisogno di te, oh Signore. Abbiamo bisogno del tuo vino, della speranza, del tuo odio, della consolazione, delle fasce, del tuo amore. Abbiamo bisogno di sentire le tue mani sul nostro corpo, sulle nostre piaghe, sulla nostra mente, il nostro cuore, sulle nostre membra. Signore Gesù, tu sei il buon samaritano. Piegati ancora questa sera davanti a noi. Abbi pietà di noi, pesciami il tuo corpo. Pietà di noi, oh Signore. Gesù Dal profeta Isaia 62 22. Sulle tue mure, Gerusalemme, ho posto sentinelle per tutto il giorno e tutta la notte. Non faceranno mai. Voi che rammentate le promesse del Signore, non datevi mai riposo e neppure a Lui date riposo. Finché non abbia ristaberito Gerusalemme e non abbia riportato la pace sulla terra, il Signore ha giurato con la sua destra, con il suo braccio potente, mai più darò il tuo grano e il cibo e i tuoi nemici, per il quale tu hai tanto faticato. No, coloro che avranno raccolti il grano lo mangeranno e canteranno inni al Signore. Coloro che avranno vendemmiato berranno il vino nei cortili del mio santuario. Signore, tu con queste parole ci dici che viene in mezzo a questo popolo che è stato saccheggiato e stato danneggiato. È passato su di voi, Euro Aquilone, un merito impietuoso. Ha danneggiato, ha danneggiato molto. Tanti di voi sono stati danneggiati da Euro Equilone. Ma non temete, io sono con voi, io sono il Signore. Pregate, pregate ancora, perché il vento di Euro Aquilone, il vento impietuoso, soffierà ancora per tutta l'estate. Ma non temete, non datevi riposo, pregate ancora il vostro grano. Pregate, io sono con voi, non temete. Voi mangerete ancora il vostro grano, voi berrete ancora il vostro vino. Io veglierò sopra di voi. Non temete, Euro Aquilone, non temete. cercate, cercate me, gridate me. Io proteggo il mio popolo, io sono il Signore. Queste cose vi dice il Santo di Israele. Sì, oh Signore Gesù, tu sei il baluardo del tuo popolo. Anche se soffi il vento, noi non temiamo, perché tu sei con noi. Noi ci ripetiamo proprio dentro il tuo santuario. Anche che questo vento scuoterà le porte, noi non temiamo, perché abbiamo un rifugio sicuro. Però vogliamo, oh Signore, non darci riposo e non darti riposo con le nostre preghiere. Vogliamo che tu, oh Signore, sii sempre con noi, nostro baluardo e nostro rifugio. Finché non si è passato, vengo l'Aquilone, noi staremo qui vicino a te. Noi saremo in preghiera, oh Signore. Noi saremo a riparo. Noi costruiremo il nostro grano e il nostro vino, il grano che tu ci hai dato, il vino che tu ci hai dato. Ancora noi faremo del pane e noi berremo il vino davanti a te. Ancora noi celebraremo le nostre feste davanti a te, oh Signore, perché tu sei il nostro Dio e noi siamo il tuo popolo. Alleluia. Alleluia. Ed è festa, leve di calzare, perché la terra che è travesti è santa. Ecco io ho ascoltato il grido del mio popolo e voglio liberarlo, perché essi io ti mando. Ecco, fratelli e sorelle, il Signore ascolta il grido del popolo soffarente. Il padre ha mandato il suo figlio che continua a liberare il popolo dalle sofferenze, però dobbiamo ricordarci che il luogo dove egli opera qui è un luogo santo. Dobbiamo levarsi i calzari, comportarsi bene. Qui è il luogo dove si adora il Signore, si ringrazia il Signore, in punta di piedi, con i piedi scarsi. Questo luogo, dice il Signore, non serve per altro. Ricordatevi della santità di questo luogo, non il luogo dove si litiga. Non è il luogo dove si contente, ma è il luogo dove si adora il Signore, dove si benedice il Signore e da cui si parte per andare ad annunziare agli altri che Dio liberi il suo popolo, guarisci il suo popolo. Questa sera il Signore concede tante altre grazie. Qui abbiamo una lunga serie di indicazioni che vengono per doni di conoscenza. Ora, ne leggiamo, ne leggiamo un po' tutti, qualcuno. Ecco il Signore, invita una donna a ritornare al focolare domestico. Il Signore si era allontanato, si è stufato con il suo marito, non è la prima volta. Questa è la terza volta che si è allontanato. Ma il Signore dice, torna a casa tua, abbi pazienza ancora e con le tue buone maniere, con la preghiera, vinci il male, io sono il Signore che ti aiuterò. Ancora il Signore tocca l'ovaia dove c'è una ciste di una ragazza. Il Signore tocca il seno di una donna, c'è una piccola punta, arrossata, indolita, non deve temere, tutto cesserà come l'incanto. Ecco il Signore tocca il fegato ingrossato di una persona e per un'altra persona che ha una cirrose epatica il Signore mette un termo, non andrà avanti, rifaccia gli esami e troverà un miglioramento. C'è una persona in mezzo a voi che soffra la mandibola, il Signore tocca, il dolore cessa e guarisce. Se la persona è presente, alzi la mano, mandibola. Grazie, Signore Gesù. Il rene destro di una persona è dolorante. C'è un calcolo. Il Signore tocca, il calcolo si sgretola e non corre più alcun pericolo. Rene destro di una persona. Se la persona è presente, è pregata di alzare la mano. Soffriva fino a questa mattina, ma adesso non sente più questo dolore al rene destro. Il Signore sta toccando il rene destro di questa persona. Se la persona è presente, è pregata di alzare la mano. Bene, vedremo ancora. Come? Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Bene. Ci sono tre persone che hanno ciste. Uno è all'ovaio, non si vede. Le altre hanno ciste. Una all'ascella e l'altra alla mammella. Entro questa sera non ci sarà più niente. Bene. Grazie. Ringraziamo il Signore perché sta toccando diversi dolori alle giunture, soprattutto le giunture tra il piede e la gamba. Ecco, sono almeno due persone che avevano dolore proprio nella giuntura tra la gamba e il piede. Signore, tocca e questo dolore sparisce. Se le persone sono presenti, possono anche alzare la mano. Ecco, uno. Ce n'è un'altra. Grazie, Signore Gesù. Un dolore vivo all'osso sacrale, il Signore tocca e guarisce. La persona si sente come rinfrescata in questo momento. Eppure prima si muoveva nella sedia e non sapeva come fare. Adesso è bella, fresca. Questo dolore che durava da tanto tempo non c'è più. Se la persona è presente, pregate di azz'ora. Grazie, Signore Gesù. Alle scapole due persone, alle scapole due persone, sono tutte e due donne. Sentivano tanto dolore e adesso il dolore è sparito. Alle due scapole due persone, due donne. Se le due donne sono qui presenti, sono pregate di alzare la mano. Scapola. Ecco, è proprio l'osso della stalla dell'insenatura. Faceva male e non fa male più. Grazie, Signore Gesù. Una. Grazie, Signore Gesù. Bene. Oh, Signore, noi ti ringraziamo di quello che stai facendo. Ti ringraziamo perché tu stai fermando un tumore. Un tumore allo stomaco e al colon discendente. Un tumore al colon discendente, il Signore lo ferma e non va avanti. Per cui la persona che è affetta di questo tumore si rallegri perché il Signore tocca e fermi il male. Signore, ti ringraziamo perché stai toccando tre persone, due donne e un uomo. Mi stai toccando dentro il cuore. Io ho letto la tua vita, ho letto la tua vita, io ti scluto il cuore. Tu hai ordito male contro il tuo prossimo, ma io ti perdono se tu perdoni al prossimo che hai l'odio. Io ti perdono ed io cambierò la tua vita. Ritorna a me, troppo lontano sei andato e corri pericolo. Ritorna a me, uomo, che stai qui, lontano da me, e sei qui in mezzo alla folla, e sei venuto qui, così quasi per caso. E' appropria a te che io rivolgo la mia parola, convertiti e io mi converterò a te e cambierò la tua vita. E per altre due donne, siete in pericolo, tutte e due. Non cedete all'adescamento, non cedete all'adescamento. Sarà un pericolo per voi e per le vostre famiglie. Siete ancora in tempo. Tu già, per la prima, hai ceduto diverse volte. Non cedere più. Io ancora voglio salvarti. E tu che ancora non hai ceduto, non cedere, perché sarebbe la tua rovina. Le due persone sono qui presenti. Esse sentono vivamente questa parola per loro. Grazie, Signore Gesù. E adesso continuiamo così a lodare e benedire il Signore. Per una donna che è presente, il Signore dice così. La donna che è presente, il Signore libera i prigionieri. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore libera ieningi, il Signore libera i proverbi. Viene libera, i福i. Il Signore libera i Valve. Il Signore libera ictors. Il Signore libera i recognitoris. oscuro all'esofago, Signore tocca e guarisce, esofago, male oscuro, gioisci figlio, Signore ti sta toccando, e poi c'è una macchia sospetta al polmone destro, Signore tocca e guarisce, ringraziamo il Signore di tante altre grazie, qui abbiamo anche altre donne di conoscenza, vediamo, il Signore tocca un'artrosi cervicale di due persone, bene, il Signore ferma una caduta di capelle di una bambina, il Signore concede il dono di una maternità a una persona e dà il lavoro ad un uomo, questo è per diverse persone, il Signore tocca gli osso doloranti di diverse persone, non è soltanto una persona, ma parecchie persone hanno dolore alle ossa, dolore a tutto il corpo, e sono perlomeno tre persone, queste tre persone sono visitate dal Signore, se le persone sono presenti, e adesso qui la sorella leggerà ancora i nomi di quel servizio così benedetto dal Signore, qual è il telefono ascolto, che ormai da 12 anni è in attività, ecco in questo ultimo lunedì, poi ci sarà un po' di riposo, vogliamo leggere i nominativi di quelle persone che attraverso il telefono ascolto si rivolgono a questa comunità di preghiera. Signore.